Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì, tranquilla che si guarda nello specchio e scende un'altra sigaretta. E Lily Marley, bella più che mai, sorride e non ti dice la sua età, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi, tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito, oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio.